Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta croccante al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, biscotti secchi a pezzi, latte parzialmente scremato, miele, amaretti a pezzetti e amaretto di saronno. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo dridare per 5 secondi a velocità 7. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il miele, il latte e lo facciamo sciogliere per 4 minuti. 50 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo adesso i biscotti, gli amaretti e il liquore amaretto di saronno e facciamo amalgamare per 40 secondi, anti-orario. Velocità 2. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 22 cm foderato con pellicola trasparente. Dopo aver versato l'impasto, adesso chiuderemo con pellicola trasparente la superficie e lo riporremo in frigo per almeno 4 ore. La torta è pronta, serviamola spolverizzando con zucchero a velo. Torta croccante al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! La torta è pronta, serviamola spolverizzando con zucchero a velo. Grazie a tutti!